Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 9 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo acquario. Sovvenzioni insufficienti per un progetto? Bello il vostro progetto, suggerito da una luna visionaria allo Zenit, interessante e soprattutto originale, ma quanto costa, chiedetelo a Saturno e Nettuno in seconda casa, la cifra che sputeranno vi farà letteralmente svenire. Se sperate in una sovvenzione, riponete subito il vostro sogno in un cassetto, non ci sono soldi, a voi il compito di trovarvi uno sponsor. Prudenza anche con gli acquisti, a dar retta alla voglia comprereste antiquariato, vintagge, tecnologia. Tutta roba cara, ma i patti parlano chiaro, proibito toccare il capitaletto investito, finito il liquido si torna a casa. Seratina gogliardica tra amici, tutti esagerati come voi, in tavola solo alimenti proibitivi, innaffiati con vino dannata, quando si tratta di piaceri sensoriali e di riunire persone a cui tenete, non pensate al conto, lo scontri non lo guarderete domani. La coppia è attraversata da dubbi e incertezze sul futuro, motivate soprattutto dalla perenne indecisione dei partner. Solo i partner più ostinati e costanti riusciranno a districarsi dalle maglie dell'indecisione e portare a termine i progetti di coppia. Momento di estrema confusione per i che resteranno scoraggiati e avviliti. Gli amori segreti potrebbero venire alla luce, Mercurio e Marte non sono proprio dalla parte vostra. Termina le cose che hai iniziato. Non essere pigro e metti a segno colpi importanti dandoti da fare di più. Le persone straniere potranno giovarti. In serata potresti avere contatti con preti o persone molto devote. Gli impegni della giornata non vi dovranno distrarre dalle vostre consuete occupazioni, cercate di conquistarvi stima e fiducia negli altri facendo bene ogni cosa. Sono in arrivo proposte nuove, valutatele attentamente e decidete secondo il vostro cuore. I pianeti sono dalla parte vostra, meglio approfittarne. Periodo grigio per l'amore e i sentimenti, forse dovreste prendervi un periodo di riflessione e staccare la spina per un tempo. Bene con gli amici che vi ripagheranno il grigiore in amore. Oggi avrai modo di risolvere una discussione con un'amicizia e ti sentirai risollevato. Nel tempo libero dovrai ritagliarti degli spazi per rilassare il tuo fisico. Oggi se potete fate del bene a qualcuno, anche un piccolo gesto, un piccolo aiuto, una buona parola saranno graditi a chi un giorno potrebbe restituirvi centuplicato il tutto. Oggi potreste sentire il distacco di amici e partner nei vostri confronti, vivete infatti un periodo non certo brillante. In serata i single però potranno godersi eventi particolarmente effervescenti. Sebbene tu abbia un apprezzabile senso di responsabilità, accetti più compiti di quelli a cui sei un grado di adempiere. In questa lunedì di settembre si possono registrare lievi di sapori, piccoli ostacoli emotivi nell'ambiente familiare e nel settore delle amicizie che potranno interferire sul buon andamento delle relazioni in genere in questa giornata. Il team Luna e Urano, tra Scorpione e Toro, continua infatti a contrastare i nati nella seconda e terza decade. Giornata no, basta un'occhiata alla Luna in Scorpione e in quadratura al vostro segno per comprendere che non state bene con voi stessi, con la famiglia, con l'ambiente circostante. Inutile cercare consolazione nell'acquisto, Saturno in seconda casa, vi mostra il portafoglio vuoto, mentre il sole in vergine vi ricorda l'importanza del risparmio, senza questa capacità non arriverete da nessuna parte. Amore ed Eros. Quella che definite fame o vuoto è un desiderio inappagato che va al di là della vita quotidiana, è bisogno di affetto, mancanza di radici, sensazione di fluttuare senza sapere né come, né dove, né perché. Inutile aggrapparsi agli altri, non saranno loro a darvi sicurezza, quella dovete trovarla in voi stessi. Malintesi con mammina o con la suocera, ma questa non è una novità, non siete mai andati d'accordo e non c'è alcuna probabilità che iniziate proprio ora. Momento di alterne fortune per voi in amore. Venere vi sostiene e salta la parte passionale, ma la Luna non vi appoggia. Qualche piccolo malumore del vostro partner non vi deve preoccupare. Ancora urano imbronciato, vi porta qualche lieve negatività esterna che può disturbare il vostro menage, ma tutto, in fondo si potrà dire, nella norma. Giove in serata vi riporta la concordia in generale e l'armonia regnerà poi sovrana sulla vostra coppia, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 31 di gennaio al 6 di febbraio. Diverso il discorso se siete singli e appartenete alla terza decade aquariana, Nettuno vi provocherà beneficamente portandovi esperienze, a provarvi nelle avventure e a immergervi in nuove appassionanti emozioni. Lavoro e denaro. Pochissimi soldi da spendere è una riserva piuttosto contenuta da conservare per gli interventi urgenti e le necessità importanti. Non illudetevi perciò di aderire a programmi ambiziosi fatti da amici danarosi, sia al massimo alla scarpinata in montagna o alla visita turistica a siti archeologici o storici, dividendo la benzina, quanto al pranzo è così piacevole al sacco. Motivazione. Raggiungete superbe performance della vostra competenza e abilità professionali. E giovese nati dal 4 al 12 febbraio, a offrirvi i risultati del vostro impegno che si traduranno nell'attestazione di stima dei vostri capi. Benessere. Che cosa c'è di più semplice in un momento di insicurezza e di insoddisfazione che svaleggiare il frigo? Conoscendo ormai bene questa terribile tendenza, fregatelo e fregatevi da soli acquistando solo prodotti dietetici, pieno sì, ma di carotine, sedano, yogurt greco a zero grassi, e foglie di insalata. Pura cellulosa, che sazia ma non ingrassa. Denaro. La ricerca della felicità si traduce per il vostro segno in un desiderio di pace, di quiete e di armonia. Non a caso siete il segno spirituale e non materialista assetato di denaro, che molti testi descrivono. Per lei, cresciutelle, ma quando vi ritrovate col portafoglio vuoto fate ciò che facevate anche da bambine, andate a trovare la nonna chiedendo le sovvenzioni. È invecchiata da allora, ma il portafoglio è sempre robusto, infatti allargisce anche oggi. Per lui, colpo di fortuna inaudito, ciò che perdete quotidianamente palma a palmo lo riguadagnate tutto a un tratto la lunedì grazie a una mano super fortunata. Attenti, però, la fortuna ha i piedi di vetro e non torna mai due volte sui suoi passi. Colore delle emozioni, verde acido. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 5, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.